Giovedì 28 novembre nella splendida cornice di Villa Fenaroli a Rezzato si è tenuta l'assemblea annuale della Compagnia delle Opere Lombardia Sud-Est. La Compagnia delle Opere è un'associazione di imprenditori trasversale alla quale possono aderire imprenditori che sono magari eventualmente già iscritti anche ad altre associazioni, quindi non è esclusiva, anzi è inclusiva. E' un'associazione che per lo più cerca di aggregare l'imprenditore partendo dal valore principale che è l'uomo, quindi l'uomo prima dell'imprenditore e poi dopo tutto il resto. E' un'associazione che conta circa 400 associati qua a Brescia, è ramificata e disseminata sul territorio nazionale, sede principale a Milano. E qua a Brescia portiamo avanti da anni questa delegazione con entusiasmo e con la voglia di cambiare in funzione di quello che durante le congiunture socio-economiche poi dopo si verifica per essere sempre al passo coi tempi. CDO Lombardia Sud-Est è il risultato di tanti anni di CDO che è cambiata moltissimo nel tempo, adesso c'è una nuova era che sta cominciando, anche perché gli imprenditori stanno iniziando a vivere una nuova era e da qui la sfida per poter andare avanti, fare sempre più associati e far capire che la Compagnia delle Opere è il luogo dove operare in compagnia, quindi dove si è mai soli ma si è pronti a condividere il talento, le esperienze e anche perché hanno le difficoltà, perché quando ci sono le difficoltà essere soli è una cosa brutta sia per l'uomo sia per l'imprenditore, una cosa che fa male a se stesso, all'impresa e alla famiglia, quindi cerchiamo di essere di supporto attraverso relazioni e convenzioni piuttosto che iniziative di vario genere. All'evento era presente anche l'assessore alle attività produttive di Regione Lombardia Alessandro Matinzoli. Credo che sia una dimostrazione di come si voglia sempre più lavorare in sistema, in rete e dunque scambiare quelle che sono le buone prassi, stimolarsi su quelle che possono essere le leve nuove di sviluppo per creare lavoro, per creare economia e dunque anche per tutelare la persona, l'individuo e tutelare il nostro tessuto sociale in un momento di grandi cambiamenti, di grandi sfide come i mercati globalizzati. Significativo l'intervento di Alessia Marsigaglia, giornalista e studiosa di giornalismo costruttivo, che proprio ai nostri microfoni ha fatto un punto su cosa è il giornalismo costruttivo. Il giornalismo costruttivo è un ampio cappello che racchiude quello che si può fare di buono all'interno dei mass media e dell'informazione, nel senso che c'è stata una degenerazione da un punto di vista proprio di diffusione delle notizie dovute a questioni economiche, questioni di marketing, il famoso pay per click eccetera eccetera che ha portato alla ricerca continua di sensazionalismo, mezzo verità, cose dette ma non verificate. Il giornalismo costruttivo vuole riprendere le redini del vecchio giornalismo e andare alla ricerca di quelle che possono essere le possibili soluzioni per fare in modo che sia i giornalisti ritrovino ad avere passione e soprattutto rispetto della loro professione visto che sono purtroppo in base a moltissime indagini considerati quasi alla stregua di personaggi poco raccomandabili e poco affidabili quindi che ritornino ad avere il ruolo che meritano e al stesso tempo di fare in modo che i lettori non siano più preda di questi moti sensazionalistici oppure rimangano passivi a dire che tutto non va bene, non si può fare nulla e continuando quindi a criticare e a lamentarsi ma si ritrasformino in attori e in persone attive in grado di cambiare le cose anche dal basso.